Ottantunesima Fiera del Levante, lo sapete, dedicata alla cultura e alla economia. Parliamo in modo particolare di cultura e di fotografia in questo spazio con due ospiti che sono venuti a trovarci qui nello studio di TRM Network allestito all'interno della fiera. Due ospiti che vi presento subito sono Timoteo Papapietro e il fotografo Peter Strebel. Bentrovati, grazie per essere venuti a trovarci. Timoteo Papapietro, il progetto editoriale del libro che andiamo a presentare, Matera, Immagini del Tempo, che vi mostriamo anche appunto nelle nostre immagini. Raccontiamo un po' com'è nato questo progetto editoriale, quali sono le caratteristiche di questo libro fotografico, che vedremo essere tutto in bianco e nero e contenere appunto le foto di Peter Strebel. Buonasera a tutti. Il progetto nasce dall'amore sconfinato per una città che ormai è sotto i riflettori di tutto il mondo. Non abbiamo mai editato un testo, pur lavorando dal 1993 nel settore editoriale, non abbiamo mai editato un libro in bianco e nero. La fotografia in bianco e nero sembra essere una fotografia del passato, tutt'altro per la città di Matera, tant'è che è diventata una palestra fotografica, meta di fotografi di fama mondiale. Nel 1981 Peter Strebel, quel fotografo finlandese, si reca nei sassi di Matera, nello studio di Mario Cresci e inizia a fotografare questi sassi. Questi sassi che nelle fotografie del passato, in un lavoro che abbiamo già fatto con Peter, mi sottoponeva, per cui mi ha dato l'input per poter partire a un progetto importante. Ci siamo avvarsi dalla collaborazione di Mario Cresci che ci ha sostenuto con una consulenza nel progetto grafico e abbiamo inaugurato una collana fotografica in bianco e nero dedicata alla fotografia, che non è solo di Matera. Ci tengo a precisare che le fotografie sono state realizzate tutte a Matera, immagini del tempo, con un testo importante di Roberto Mutti, sia in italiano che in inglese. Sono fotografie realizzate esclusivamente nei sassi di Matera, ma questa collana ha un progetto che va oltre la città di Matera. Stiamo guardando un po' alcune fotografie all'interno di questo libro attraverso le immagini che vi proponiamo. Peter Strebel, c'è una costante in queste fotografie che è quella della luce? Luce e ombre. Questo è il mio tema degli ultimi 40 anni. Lei è stato presente a Matera prima nel 1981, per poi tornarci nel 2011. Sì, dopo 30 anni. Che cambiamenti ha trovato? Tutto è cambiato, perché dopo arriva il patronato dell'UNESCO, è ricostruito tutto, ma quando ritorno io non ho visto questa cosa. E' aspettata che si è abbandonata. e arriva con l'idea per continuare questo vecchio lavoro e ho visto questi sassi come un shock. Che cosa ha fatto qui? Che è successo con i miei sassi? Non è possibile ancora per lavoro, ma dopo due, tre, quattro giorni ho trovato nuove cose, sassi nuovi. E continuo tutti gli anni. Tutti gli anni ritorno per due, tre, quattro volte. Lei parla dei miei sassi, li fa suoi, perché dietro a ogni scatto, dietro a ogni fotografia ci sono ore di lavoro, è vero di attesa, per trovare la giusta combinazione di luci e ombre, appunto. Sì, il tema è bellissimo, speciale in questa città, in questi sassi. Io sono i miei sassi perché sono innamorato in questa città e in Basilicata. Cosa le ha dato scattare i sassi di Matera, prima nel 1981 e poi nelle volte successive in cui è stato a Matera? Cosa le ha dato? Cosa le rimane di queste fotografie? Che emozioni? È stato due settimane in giro, tutti i giorni, tanti volte in case uguali. Per me, io sento la vita vecchia, di mille anni fa, e ho sempre pensato come le persone, come vive qui, come in queste condizioni. Tutto questo background, sempre con me, quando cercare le cose per fare le foto. Una cosa più importante è il mio lavoro fotografico, anche in altri lavori, sempre la storia, le tradizioni, la gente, così. Un lavoro quindi molto affascinante, queste emozioni di cui chiedevo, in effetti sono rese per chi ha la capacità di coglierle in queste meravigliose fotografie, è vero? È verissimo. La fotografia, al contrario di un disegno, di un'opera artistica, riproduce la realtà, quello che si vede. Quindi la fotografia potrebbe essere, prendere davvero un pezzo dell'immagine che al momento stai osservando e portarla via con te. La capacità di Peter è quella di mettere emozioni a qualche cosa che in effetti può sembrare semplicemente un tratto di immagine che vedi, un tratto freddo. Sfogliando le immagini che stiamo vedendo, le fotografie, non c'è una fotografia che non è un'immagine, un'ombra di una persona che attraversa la strada, piuttosto che l'oggetto, gli oggetti utilizzati dalla cività all'interno dei sassi, quei sassi che nell'81, quando Peter ha iniziato il suo percorso fotografico su Matera, era una città abbandonata. Nel ritorno del 2011 lui riprende, ed è questo un contrasto che non è affatto stridente, ma lui lo evidenza con emozione. Rivedere le persone che addirittura si baciano, come questo selfie che abbiamo appena visto, oppure le ombre del logo di Matera 2019, o semplicemente un carro che prima era tirato dagli animali con accanto una bicicletta. Quindi non c'è nulla di freddo. Anche tutti i colori naturali utilizzati, perché qua non c'è nessuna manipolazione, non ci sono effetti di ritocchi. La foto, come mi diceva appunto il maestro Peter, deve essere quello che aveva in testa quando ha scattato. Quindi non c'è nessun ritocco fotografico successivo, ma sono emozioni che realmente il fotografo, di cui davvero sono grato di avere nel nostro gruppo editoriale, ha emozione scatto per scatto. Ogni pagina è un pezzo di cuore, è un pezzo di intelligenza, è un pezzo di luce che il fotografo dà al lettore. La bellezza di queste fotografie, se posso permettermi, sta ad esempio nel fatto, osservavo, di come non in tutte c'è la presenza della vita. Ad esempio togliamo quelle dove si vede appunto la persona o il carro, come diceva lei, con i buoi e via dicendo. Ci sono anche quelle apparentemente vuote, però c'è questa luce che di fatto è la vita. Quindi sono tutte quante comunque rappresentative di una presenza. Sono d'accordissimo e una sera durante una cena con Strebel mi raccontava proprio di questa sua ricerca spasmodica a narrare nella fotografia le tracce di quella civiltà contadina che ha mai lasciato il sito abitativo di Matera. Per cui, come dicevi giustamente tu, pur non vedendo, non vedendo l'immagine della persona, non vedendo più tipo Cartier-Bresson che ha immortalato tratti di vita, quindi la vita vissuta con le immagini in primo piano, Peter al contrario ricerca nella pietra di Matera, in quella che anche, ho visto prima una fotografia della scalinata, di cui ne abbiamo discusso parecchio, l'usura della scalinata. Questo ci fa capire la profondità e la ricerca antropologica che ha portato Zavottini insieme a Ernesto De Martino, ma Peter con degli studi già alle spalle di altri suoi predecessori, riporta in questo bellissimo libro. Ecco, queste scale consumate o comunque l'usura che si vede in generale nei sassi, in queste foto, sono la presenza della vita umana fin dall'inizio della storia dell'uomo. Per me è importante, la macchina fotografica, io uso per far vedere le mie emozioni, i miei pensieri, altri, fotografiche, musica, io uso la macchina fotografica. Per i giovani che vogliono accostarsi all'arte della fotografia, qual è il suo messaggio, il suo consiglio? Prendere foto, tantissime, tantissime, senza pensieri. E quando trovare una persona, un fotografo, per aiutare, per analizzare queste foto insieme, per capire meglio che cosa ha fatto, come ha fatto un'altra cosa. È un modo per studiare anche, no? Sì, sì. La sua visione sul mondo la trasmette attraverso i foto. Io ho fatto non così, mai studiare la fotografia alla scuola. Quindi c'è un po' una visione anche dadaista, cioè viene fuori così come l'emozione detta, senza troppe tecniche, troppi filtri, legati all'accademia, allo studio, come tanti artisti, anche dell'espressionismo, se vogliamo. È verissimo, è un artista, un fotografo che risente di varie formazioni. Ha come pregio l'ascendente di un fotografo giapponese, che è stato un suo maestro di fotografia. Anche la Germania ha influito molto nel suo modo di fotografare. Non ultimo il percorso italiano, il ventennio di fotografie in Italia, per cui ritroviamo in un fotografo nato in Svizzera, vive in Finlandia, ma che ha vari maestri, tant'è che le sue opere sono esposte in varie parti d'Europa e del mondo. Ripeto, risente dalla formazione orientale di un maestro giapponese a cui lui deve molto. Mi diceva appunto che in ogni fotografia il suo modo di narrare, lui è una narrazione per immagini, per cui lui guida il lettore e già nello scatto, nella sua testa, c'era già l'immagine precedente e la successiva allo scatto del momento. Per cui la bellezza, la narrazione che chi mi raccontava era proprio quella. Ora devo ritornare su quel posto, aspettare l'ombra giusta, affinché io possa dare continuità al pensiero a cui avevo dato lo scatto del giorno prima. Per cui non è una raccolta di cartoline così messe per caso, è un modo di comunicare, quindi una comunicazione di un pensiero profondo e come dicevi tu, anche da daista, certo lo è, perché ovviamente è una componente ideologica a cui è molto molto legato Peter Streber. Ci sarebbe davvero da parlare per ore di ogni singola fotografia, perché questo progetto, questo libro è davvero estremamente affascinante, ma i tempi mi costringono a salutare i nostri ospiti che ricordo sono Timoteo Papapietro, quindi l'editore con la casa editrice Magister, è il fotografo Peter Strebel che ci ha dedicato, ci ha regalato questi bellissimi scatti, questa bellissima visione di Matera. Grazie anche al nostro pubblico per averci seguiti, restate con noi per gli altri collegamenti dalla Fiera del Levante. Grazie.